Macchine danneggiate e atti di vandalismo che arrivano ad associarsi al furto. Parte da queste basi la volontà dei cittadini del quartiere Celletta-Pentagono di dare vita ad una raccolta firme per chiedere l'installazione di alcune telecamere di videosorveglianza. Nella notte del 5 gennaio sono stati distrutti finestrini di due vetture situate nel parcheggio di via Tomasini. Gli stessi malviventi autori del gesto si sono poi impossessati di tutto ciò che sono riusciti a trovare nell'abitacolo delle auto, compresi oggetti di poco valore. Un fatto grave che preoccupa i residenti, i quali già da diverso tempo hanno segnalato il verificarsi di episodi spiacevoli nella zona. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio ci sono stati atti vandalici a danno delle auto che erano qui parcheggiate, in particolare due auto a cui sono stati rotti finestrini, una delle auto è la mia e hanno messo sotto sopra tutto l'abitacolo aprendo i cassettini di tutto ed è stata una brutta sorpresa perché non ce lo aspettavamo nessuno di noi qui del quartiere perché solitamente la zona, almeno il parcheggio era sempre stato tranquillo e quindi non c'erano mai stati problemi. In questa zona qualche problema in passato e anche adesso c'è che riguarda il parco Baden-Powell purtroppo dove lì invece ci sono spesso atti vandalici sia sui giochi che devono essere continuamente risistemati e soprattutto in estate con gli schiamazzi notturni fino a tarda notte, fino alle 4 o le 5 della mattina e queste segnalazioni noi le abbiamo fatte più volte. Chiediamo al Comune l'installazione di due telecamere, una qui nel parcheggio e l'altra nel parco per una sicurezza e una tranquillità di tutti i residenti della zona. Il quartiere è un quartiere abbastanza tranquillo, è uno di quei quartieri che è vivibile e lo è sempre stato e sarebbe il caso che restasse tale proprio per permettere ai bambini di accedere al parco tranquillamente anche d'estate ma anche per un decoro perché anche la stessa pulizia poi ne risente. È capitato un paio di volte di dover raccogliere cose lasciate in giro da chi del parco ne fa un uso improprio e il parco non è solo questo. La sicurezza del quartiere, la sicurezza di Pesaro passa anche attraverso queste piccole cose e abbiamo dei contatti con i consiglieri di quartiere e in Comune affronteranno questa cosa, questo argomento sarà discusso martedì, proprio per dare un'informazione e poi vediamo le evoluzioni. Ci piacerebbe vedere delle evoluzioni positive a queste piccole segnalazioni che diamo ma che piccole poi non diventano e non restano se hanno un crescendo di atti.